eeeh non hai messo chi né niente perchè no niente dicevo per fare prima magari per trasportare non mi picchiate voi picchi zombie qua è scompletata esplora le rotaie del nether elevatevi non vedo oh erano queste rimetti difficoltà easy barra normal barra hard no aspetta che cazzo succede io tolba ah 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 un diamante e due golden apple voi quanti diamanti avete? 0 0 io pure ok allora abbiamo completato la quest del nether ora ti dice di tornare indietro o c'è una strada per fare qualcos'altro? aspetta vi dico un attimo capitolo 4 un enorme lago di lava rovine è un gigantesco giro no venite dove siete? tornate dalla partenza io sono partito ormai anch'io vabbè io vi aspetterò mi sa che ti ho spedito indietro eh sai ah si in effetti si si e a un certo punto mi ha toccato un pigment quindi ora sto scendendo anch'io e ora sto risalendo adesso c'è tipo c'è tipo il mio kart e sono speso nell'aria all'inizio bello ah vieni tale eh non so dove sei non ti vedo qua ah ok vedi rotaie del nether di là e invece di qua ci sono le rovine vedi qua salendo di qua ah che bello però aspettiamo kingoro 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 muoviti kingoro porca miseria perchè kingoro no? kingoro 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 eh come ancora quel tipo il micart kingoro kingorico kingoro è un po' di depresso non kingorati troppo hai capito? le rovine finiscono lì le rovine finiscono lì? si non si può più andare avanti da qua le rovine cioè vai qua bello bene sono finite le rovine ok bob storia storia 8 storia 8 storia 8 vado avanti per le rovine o no? non so se di quando storia 8 vado avanti per le rovine o no? aspetta ti raggiungo oh shit vedo le rovine io sono sulle rovine lago di là dobbiamo anche fare molta attenzione eh cosa facciamo ragazzi? in che senso? proseguo per le rovine il pigman all'inizio del lago di lava è aggressivo? no no non lo so però noi non colpiamo il pigletto se non lo picchi non è molto cattivo comunque andiamo avanti guardate che questa è la storia 8 questa è la storia 4 lago di là è la storia 4 no queste sono le rovine non è la storia 8 ah ok sono le rovine questa è la storia 8 ah sono morto e sono di nuovo davanti a una di quelle battutissime porte ah aiuto ah mi sono andato dentro il pavimento ah c'è un coso che mi sta sparando odio le porte e odio più di qualsiasi altra cosa vuol dire che sono già riuscito a uscire no? è impossibile cosa faccio? torno in dre? speriamo speriamo bello ho ammazzato un un coso volante lì come si chiamano si ok vengo anch'io dallo spawn ah di tutto la porta così non abbiamo più problemi arrivo dallo spawn perchè c'è un pigmen su un minecart boh non sono i nostri dove andiamo? ehi un attimo che devo ancora recuperare il percorso della via no quella storia 8 quella è la storia 8 ma ancora mancatello morto ma fa ok ricapitolandolo cosa dobbiamo fare eh dobbiamo superare questo lago di lava usando i blocchi di insidio ti ho detto Dino siete sestardi eh ah sono allora ricordiamo ricapitolandolo tutto l'albero che questo era quale c'è scritto nella porta? nella storia 8 vuol dire nella storia 8 c'è scritto che bisogna proseguire ehm cioè vede le rovine e bisogna superare ehm cioè bisogna raggiungerle evitando la lava però noi non abbiamo ancora finito quito cioè ci sono non ti ho sentito ti ho sentito ti ho sentito i scatti poi per te c'è della storia prima cosa c'è del punto di domanda gigante quindi era gli enigmi la cassa che dici tu tale non c'era praticamente niente di importante dentro ok no 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 ho trovato uno smeraldo che cosa bella che figo mamma mia cosa lo smeraldo beh allora che facciamo ci uccidiamo con le frecce no perché no allora ricapitolandolo la storia 5 l'abbiamo fatta no siamo saltati alla storia 6 e ora la storia 8 no aspetta cosa è successo torniamo indietro scusate perché continuamente andando verso la verso questa torre quindi eh sì ma quella sarà più o meno l'ultima una delle ultime storie sai com'è eh ma che no 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 cioè siamo andati dall'albero e poi sopra l'albero siamo andati nel nether ok chi è che è entrato nel portale per tornare indietro nessuno ok ok io sono caduto da un fracco di blocchi un quarto d'ora fa non mi ha ancora detto che subito vanno va bene io sono chiamato l'albero devo rimanere tutto al contrario no senti è ti ho visto a zombie, uccidimi dai fallo no 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 ho fatto io no allora che facciamo il lago di lava no perchè perchè si abbiamo fatto le cose prima no non è così sì sì le abbiamo fatte cioè le abbiamo saltate a metà però le abbiamo fatte diciamo in cima all'albero non c'era un libro con del un po' di storia davanti a portare nel nether ti diceva di andare nel portale e poi cosa ti diceva io santo easy quello dopo è quello che hai trovato tu quello dopo che diceva sto per avere un esaurimento nervoso si è vero tra lag e roba varia non sei l'unico se qualcuno è bellissimo tutte le volte arrivo in cima al al quadrato che c'è all'inizio del lago di lava e poi mi lanciano solo nella lava così a caso sei grandioso aspettate che arrivo io sono fermo meno tranquillo e poi a un certo punto salto dentro la villava perchè? non si sta vabbè adesso arrivo anch'io hai voglia di saldare nell'arco di lava evidentemente si arrivo anch'io eh steve voglia di farci una notazione was no che cosa no aspetta un attimo oh mamma ci fossi io con l'arco e c'è anche la mia morte chi è che è stato friccato a morte? non so un po' e poi cosa significa fricca di sudetto? non ne ho la minima idea non ho capito cos'è che è successo ah si eh mi sono ucciso con le spine di un cactus ah c'è pensavo c'è scritto semplicemente oddio no ah no ma un cast no ma non si può spavolare lì dico se sapessi dov'era l'avrei sarei riuscito ad ucciderlo eh ma visto che non sapete è dall'ago di là ma dai non l'avrei mai detto c'è ma mi prendi per il culo cosa nessuno qui ti sta prendendo per il culo ti ricordo nooo nessuno ha una canna da pesca per pescare i ghost no mi sembra una buona idea così chiara io non esiste non esiste gas no no non si possono colpire con le spalle ti ricordo almeno levati beh se riesce ad arrivare a arrivare vicino penso che puoi no 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 ci ho provato mi sembra che non si possa no ma dov'è? è morto? no no proprio all'entrata dell'ago di là ma appena sali le occhie l'ho ucciso l'ho ucciso no però mi ha bruciato no ma non posso morire così subito ah no ok non sono morto appena arrivato voi fin dove siete arrivati fino adesso? ma no adesso ero arrivato al a quella specie di buco nel lago di lava sono arrivato sì ecco esatto anch'io lì io non ci sono manco arrivato comunque secondo me i ragazzi stanno sempre saltando un pezzo di storia eh vabbè ce ne faremo una ragione e poi che ce ne siamo fatti una ragione dopo che ce ne siamo fatti una ragione che facciamo moriamo dentro la lava di nuovo esatto non c'è un checkpoint qui no eh no a quanto pare non fino a dove siamo arrivati buffi anche perchè nel header non ce ne possono essere perchè se dormi nel letto esplodo sei il che? se provi a cliccare con il destro sul letto esplode il letto eh ma infatti lo spawn cioè il checkpoint lo mettono grazie a i command block ah giusto vero non ci avevo pensato ma no come ho fatto a morire potrei spaventare dubito che puoi cercare il proletto lo sponso no comunque secondo me può se mh adesso vado tum 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 ragazzi ma ce la faremo mai non so non ce la faremo mai capitolo 4 ma la sua con la sua porta a brava sopra e non sarebbe forte o se spero fuoco scusate ma capitolo 4 chi è che ce l'ha nessuno io ho il 7 l'1 e il 2 io ho il 6 ma l'enorme lago di lava dov'è? 4 penso si ma dove? no è quello che hai tu è la storia 8 cioè il capitolo è il 4 però la storia è 8 ah perchè? ma no ma perchè? perchè non lo so non ce la faremo mai che la storia ti spiega piano piano posso fare mentre hai capito detto a grandi linee messi a casaccio come il prossimo grande obiettivo dove siete voi? no no però che stiamo entrando nell'anora stessi insomma c'è sto sto provando se non ha fatto un po' niente 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 arrivo a niente arrivo torno di nuovo anch'io niente dai ma secondo me prima poi ce la facciamo ma tipo si mostre si possono mettere i blocchi o no aspetta non abbiamo ancora di blocco non abbiamo nessun blocco quindi la vedo voglia sì in effetti e comunque non si può quindi no no è morto è morto è morto si è morto ho una freccia sulla spalla chi cimoro sì no ahia penso sia mia quella freccia eh sì perché sei stato improvvisamente colpito sparato indietro e caduto nella nara ah wow oddio ah sì ma il film può anche venire più vicino a te c'è cioè dovremmo fare ancora la storia 5 oh che palla che sei abbiamo già superato la storia 6 c'è un altro modo per entrare nell'albero e nell'albero ci siamo già entrati mi fa una paura mi fa una paura ehm 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 allora vediamo di capirci io poi non gioco ok allora adesso mi impegno e arrivo in fondo eh ho deciso ho deciso ho deciso adesso non mi può più fermare nessuno perchè non ha saltato vabbè ehm 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 è la prima volta che muoio nel tempo reale cioè che come entrerla la voglio cioè non passo avanti ma o ok 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 ha deciso che stavolta non muoio ehm ehm sono già morto vaffanculo nooo non mi ha corso nooo 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 ce la possiamo ancora fare perchè c'è un big man e c'è un porchi pig c'è un altro porchi pig ma dai ma ce ne sono 25.000 vai nella lava se c'è solo un po' trafacco uno strafacco e non ci vedo più niente non ci vedo più dalla fame per bocci provo per l'ultima volta poi c'è sopra me la mamma del suo nocavo chingo noi continuiamo per te e sto magari facciamo ancora qualche tentativa e poi vediamo come se per quel mondo ma non c'è no 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 e conti sono tutti da un altro ciao 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 se riesco a disconnettere sono stato improvvisamente traspostato della labbra barba per te un testo ciao 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 ma c'è ancora un tentativo e poi mi arrendo te lo dico e quindi poi dove andiamo perchè io voglio capire dove dobbiamo andare e niente dobbiamo riuscire a fare sto percorso nel nether ma non penso cioè perché la storia 8 ma è la storia 8 e diciamo abbiamo fatto la 6 e la 7 dopo il 7 cosa c'è scusa? non abbiamo fatto la 6 e la 7 si la 6 ce l'ho io la 7 ce l'ho lui ah si la 7 ce l'hai tu no ma scusa e tu cos'hai? cosa dice il tuo pezzo di storia? la mia storia diceva semplicemente di salire in cima all'albero la sua diceva di entrare nel portale la tua dice di fare il lago di Abba allora si c'è però se non me lo dite le cose te l'abbiamo spiegato per mezz'ora tippa vabbè poi riguarderò il video e vedrò se mi avete veramente spiegato per mezzo a sta cosa sei andato in fiamme ma dai perché mi butta nella lava anche se non mi muovo devo iniziare ad usare lo shift è il mio problema più grande non sono buono ad usare lo shift dove sei? kingoro? kingoro? sono appena iniziato nel nether dopo l'ennesima morte dai me lo sento che alla fine ce la facciamo si prima o poi ce la faremo prima o poi ce la faremo si se avessi tutta l'armatura di diamanti potrei anche tipo farmi il bagnetto nella lava no perché non mi è corso riusciranno i nostri due eroi a completare finalmente il percorso nella lava lo scopriremo nel prossimo eccitante episodio di il caoscroft no a tutti e benvenuti al nuovo episodio di caoscroft ciao ciao beh ogni tanto bisognerà pur soppare gli episodi e farne ripartire no? io li divido in più parti e basta guarda dove sono ora e mezza di cui tipo mezz'ora solo su questo punto guarda dove sono però io guarda dove sono guarda dove sono ho superato il cerchio di fuoco ho superato il cerchio di fuoco grande si no perchè non mi corre no no basta sono arrivato dalle bumping non non uccidere nessuno perchè ho perchè ho detto dai facciamo caoscroft perchè non so che tu sia tizio che ha fatto la mappa però che tu sia dannato per tutte le tecniche sono arrivato dalla fontana muro sono arrivato dalla fontana sono arrivato dalla fontana Grazie.